Paolo, voglio dire una cosa, i bruchi diventano farfalle, quindi noi ci modifichiamo, voi siete ragni e ragni resterete, ciao! Copra! Signorina, copra! Ma che è matta! Ma che succede? Ma che sa... Fermi! Io... Fermi! Per favore! Lo capite che è maizzata la matta così! Fermi! Fermi! Ma non si può passare tutta la puntata? Uno tira fuori una zizza, uno... Guardate e me levi i calzoni, eh! Ah! Signorina, la prego, veramente! Mi fai parlare? Ben 19, dica! Buonasera a tutti, sono Antonella Caruso, ho 21 anni e vengo da Mugnolo del Cardinale, un paesino provincia di Avellino. Nella vita sono una modella, ma lavoro anche come cameriera e il lunedì pulisco un salone di bellezza. Ma come faccio a non accontentarmi io? Ma mi avete guardato? Aritaglie! Dice... Come faccio! Come fai a non accontentarsi? Come? 29! Buonasera a tutti! A lei! Sono Davide Dinizio, allungamento del pene, mutanti! Donne, fidatevi! Se vale la pena usarlo, vale la pena esagerarlo! Buonasera a tutti!